Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video-lezione riguardante i calcoli rapidi. In questa video-lezione andremo a vedere uno dei tanti modi in cui è possibile sfruttare prodotti notevoli per fare dei calcoli veloci. Ad esempio, andiamo a calcolare 98 alla seconda utilizzando il quadrato di un binomio. 98 lo possiamo considerare come 100-2, quindi calcolare 98 alla seconda equivale a calcolare 100-2 alla seconda. 100 alla seconda è 10.000, poi devo fare il doppio prodotto, quindi 2x2x100 e poi il quadrato del secondo termine, quindi 10.000-400 più 4. 10.000-400 fa 9.600 più 4 viene 9.604. Sembra lungo perché abbiamo fatto tutti i passaggi con calma, però vi assicuro che è molto rapido rispetto alla moltiplicazione in colonna, ad esempio. Proviamo a farne un altro. Andiamo a calcolare 105 alla seconda. 105 lo possiamo vedere come 100 più 5, quindi facciamo il quadrato di 100 che è 10.000, il doppio prodotto di 500, quindi 1000, e il quadrato dell'ultimo termine. Quindi 10.000 più 1.000 più 25 fa 11.025. Facciamo un ultimo esempio. 95 alla seconda, 100-5 alla seconda, quindi 10.000, meno 100 per 10, quindi 1000, più 25, quindi 9.025. Provate a fare, seguendo questa procedura, questa mini espressione. 41 alla seconda, più 51 alla seconda, più 61 alla seconda. Vediamo la correzione. 41 alla seconda lo possiamo vedere come 40 più 1 alla seconda. Quindi il quadrato di 40, che è 1600, più 2 per 40, per 1, quindi 80, più 1, quindi 1681. Vediamo 51 alla seconda. 50 più 1 alla seconda. Quindi 2.500 più 100, più 1, quindi 2.600 più 1, quindi 2.600 più 1, quindi 3.721. Quindi il risultato di questa mini espressione è 8003.